capitolo primo uno strano pezzo di legno c'era una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori no ragazzi avete sbagliato c'era una volta un pezzo di legno un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname che tutti chiamavano mastro ciliegia il falegname si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza borbottò a mezza voce questo legno è capitato al momento giusto voglio servirmene per fare una gamba di tavolino detto fatto prese subito l'ascia per cominciare a levargli la corteccia ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi non mi picchiare tanto forte figuratevi come rimase quel buon vecchio di mastro ciliegia girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere da dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno guardò sotto il banco e nessuno guardò dentro un armadio e nessuno aprì l'uscio della bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno ho capito disse allora ridendo e grattandosi la parrucca si vede che quella vocina me la sono figurata io rimettiamoci a lavorare allora prese in mano la pialla ma mentre piallava in su e in giù sentì la solita vocina che gli disse ridendo smetti tu mi fai il pizzicorino sul corpo questa volta il povero mastro ciliegia cadde giù come fulminato in quel momento fu bussato alla porta avanti passate pure disse il falegname allora entrò nella bottega un vecchietto tutto arzillo di nome geppetto buongiorno mastro ciliegia disse geppetto stamattina mi è piovuta nel cervello l'idea di fabbricarmi un bel burattino di legno ma un burattino meraviglioso che sappia ballare tirare di scherma e fare i salti mortali che ve ne pare buona idea compare geppetto cosa posso fare per aiutarvi vorrei un po di legno stagionato mastro ciliegia tutto contento andò subito a prendere quel pezzo di legno che era stato la causa di tante paure geppetto ringraziò e se ne tornò a casa